12esima edizione di Evento Sposi che ritorna dopo un anno di pausa dovuto agli eventi sismici al Castello dell'Arancia di Tolentino. Ne parliamo con l'organizzatrice Raffaella Biccire di Blue Service. Allora Raffaella, oltre 80 espositori presenti quest'anno qui in fiera? Sì, siamo molto contenti di essere ritornati nella sede in cui è nata questa manifestazione, l'Evento Sposi. Bellissima la cornice, ovviamente romantica come non mai il Castello dell'Arancia. Quest'anno tante novità, tante novità a livello di collezioni perché ricordiamo che questo evento è il primo della Regione Marche dedicato al mondo degli sposi. Quindi siamo partiti dalle partecipazioni iscritte a mano fino al viaggio di nozze, passando attraverso abiti da sposa, sposo, cerimonia, catering, location e quant'altro possa essere utile per il vostro matrimonio. E in questa edizione 2017 qualche chicca, qualche novità avete scelto di inserirla? Beh, è appena uscito il sindaco, abbiamo lustrato le scarpe al sindaco con uno choucha tipico napoletano, con uno stand tutto napoletano, con barberia, sartoria e appunto questo choucha. Tanti espositori provenienti non solo dalla Regione Marche ma molte richieste tra i visitatori sono arrivate anche dall'Umbria. La localizzazione del castello è strategica, dalla costa all'Umbria ci troviamo proprio nel mezzo, quindi sia richiesta a livello di espositori che a livello di visitatori. Tanti gli inviti sono stati scaricati dalla Regione Umbra. Sindaco Giuseppe Pezzanesi, il Castello dell'Arancia ancora location ideale per questa nuova edizione di Evento Sposi. Tante le aziende presenti, provenienti anche da fuori la nostra Regione. Sì, una bellissima ed ennesima manifestazione di cui siamo orgogliosi. Siamo orgogliosi prima di tutto perché comunque si svolge il Castello dell'Arancia, quindi Tolentino in questo caso fa da riferimento con questa splendida struttura ad un mondo che è affascinante, che è emozionante, che è anche misterioso perché comunque va a toccare le corde dei sentimenti, dell'amore e della propensione all'unione tra gli uni e gli altri. Sì, quindi come il giorno del matrimonio che poi è il giorno di esaltazione che vale tutta la vita. Quindi avere qua il massimo credo della piazza, cioè della creatività italiana che non solo è un vanto all'interno dei nostri confini ma la fa da padrone anche nel mondo e ogni anno vedere le eccellenze e le evoluzioni della creatività dei nostri artigiani è qualcosa di veramente straordinario. E ringrazio ancora una volta chi rende possibile tutto ciò, cioè la dottoressa Biciree insieme in collaborazione con la Proloco, con la Meridiana quest'anno, molto importante questa collaborazione, un'altra azienda che spicca nel sociale ma che comunque non disdegna impegnarsi in altri settori, chiamiamoli, enfatici e popolari della nostra società civile. Evento Sposi, siamo giunti alla dodicesima edizione, ancora una volta organizzato con la collaborazione della Proloco TCT di Tolentino, qui con noi il presidente Edoardo Mattioli. Sì, questa è la dodicesima edizione, mi sembra che sia una delle migliori, ben organizzata, ben fatta, ben messa e la bella accoglienza anche per il pubblico che verrà qui al castello in questi due giorni. Complimenti come sempre a Raffaella Biciree, abbiamo iniziato con lei, quindi lei che ha fatto questa proposta 12 anni fa e poi l'ha portata avanti nel corso di questi anni. Sempre meglio, ripeto, quest'anno una bellissima edizione, una bella esposizione. Grazie 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 Grazie